Ok, proprio rimproverando ragazzi, perché quando c'è lui riesce veramente a farmi andare i tempi radiofonici un po' così mi li fa. Intanto salutiamo anche gli amici della nostra pagina Facebook, ne approfittiamo, sono in compagnia di Maurizio Iacchella, amici, come promesso. E si vede! E si vede, coloratissimo. E quindi siamo appena collegati anche sulla pagina Facebook, proprio perché avendo già annunciato la presenza di Maurizio Iacchella, ne volevo approfittare per farti dare un saluto e noi salutare gli amici che seguono Radio Gela Express. Ma io una domanda te la devo fare, ma tu come mai, quando c'è la mia presenza, vai in tilt, perché ti saltano i tempi? Mi saltano i tempi perché? Perché tu sei un chiacchierone. E l'emozione. Ragazzi, un chiacchierone succede, mi fai andare i tempi radiofonici. Ma di la verità, è l'emozione, l'emozione. Ragazzi sono con Maurizio, ragazzi. E amici ascoltatori siamo anche in diretta social in questo momento, sulla pagina Mollibit. Ma che è vicino di Radio Gela Express. Di Radio Gela Express. Quindi colgo l'occasione per mandarvi un grosso bacio, un grande saluto e darvi appuntamento. Per tutta l'estate sarò in giro sul litorale da Scoglitti a Gela, da Camerina Beach Sport, a vari ristoranti, pizzerie, con tante serate e ovviamente anche probabilmente sul litorale Gerese. Quindi potete andare sulla pagina Maurizio di Gela Spettacolo per aggiornarvi per qualsiasi tipo di evento. Oppure se vedete un qualcosa di luccicante, di colorato, da lontano, quello sono io. È coloratissimo ragazzi, coloratissimo. Ha portato veramente i colori qui in radio, tanti sorridi, siamo contenti. Anche se questi giorni sono un pochettino grigi, noi dobbiamo provare e riprovare sempre a sorridere. La vicinanza va alle famiglie dei due ragazzi venuti a mancare a causa dell'incidente dell'altra notte a Scoglitti. Purtroppo stamattina è deceduto anche il fidanzatino. E quindi questa cosa non può che rattristare, rattristire diciamo le nostre giornate. Ma noi dobbiamo tornare a sorridere ma soprattutto un appello è verso tutti. Andiamoci piano con le macchine, con le moto, mettete il casco, indossate il casco. Se arriviamo cinque minuti dopo all'appuntamento non cambia niente. Sono finiti i tempi perché siamo senza strade e le macchine sono molto veloci. Quindi stiamo attenti perché la vita è preziosa. Un grosso bacio a voi amici di Molly Beat, di Radio Gela Espes. Ci vediamo prestissimo in diretta anche su Sapore di Sale. E quindi buona giornata, buona continuazione. E perché mi sta riproverando di nuovo! Sì perché mi fa sforare e poi vabbè è andata una notizia in questo momento e mi ha tolto un attimo il sorriso. Quindi sono vicino chiaramente alle famiglie. Insomma chiudiamo perché veramente è una cosa che mi tocca il cuore. E io faccio partire intanto un brano, visto che tu sei buona per me. E vado a ascoltare dopo, dopo ti accontento. Dobbiamo ascoltare questo brano che ho inedito di un nostro ospite di Spazio Interviste. Si chiama Zichitu e quindi lo facciamo ascoltare qui. Zichitu! Zichitu! E lo facciamo ascoltare qui sulle frequenze di Radio Gela Espes. Anche perché, intanto salutiamo, vai! Zichitu! Zichitu! E approfittiamo per salutare Giuseppe Lavoria. Ah Giuseppe mi hai abbandonato quest'estate. Mi hai abbandonato. Ok salutiamo Tiziana Pelligra, Lina Capizzi. Salutiamo chiaramente gli amici. In questo momento ci stanno seguendo. Io sto provando ad andare sulla pagina per visualizzare gli amici che ci stanno seguendo e poterli salutare. Tu le giuse, le date, approfittiamola anche per dire buone vacanze e chi magari si è organizzato per le ferie. Ragazzi se venite in vacanza in Sicilia, noi il buono vacanza ve lo lasciamo. Ve lo lasciamo, venite in Sicilia a gratis. Venite da noi sul litorale scoglittese, gerese. Venite a divertirvi, le nostre spiagge sono dorate, sabbiose e spettacolari. Il mare è pazzesco e poi c'è il calore nostro degli siciliani. Se portate la tenda potete alloggiare in spiaggia tranquilli, non vi facciamo pagare niente. Il bonus vacanza tenete. Salutiamo anche Riccardo Zingero, Davide Agaio e Giorno Sergio. Quindi salutiamo gli amici che stanno seguendo questa diretta. Io ve lo ricordo chiaramente, spazio interviste invece continua, quindi la maratona degli inediti continua sulle frequenze di Radio Gelo Express sempre alle 11.40. Oggi abbiamo fatto questo speciale perché è veramente tanto che non vedevo Maurizio e sono contenta di aver condiviso con lui questa giornata. Pensate un po', normalmente io faccio pagare una cifra per una diretta, per un'intervista, però per questo caso, per Molly, è tutto free. Guarda, io ti ho portato una cosa. Volevo salutare Riccardo Zingero, ti aspetto 7, 8 e 9. Sì, ti sei dato la frutta, ti ho portato... La banana! La frutta gonfi e te la porti a mare. Oh la madonna! La banana! Il frutto dell'amore! Gonfia, 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 gonfia. è arrivato il nostro editore ragazzi che mi ha trovato con la banana in mano ma mi rendete conto stendiamo un velo fitoso a questa diretta tu gotti a volte amici ascoltate il frutto dell'amor il frutto dell'amor è la banana è la banana solo lei ci riesce solo lei, solo Molly solo Molly col frutto dell'amor ragazzi va bene, va bene ma ci sei riuscito fantastico è che ti sembra molto? va bene amici allora con questo noi chiudiamo questa diretta io vi aspetto sempre con Molly Beat programma radio dalle 10.13 da lunedì al sabato con questa banana vi aspettiamo no, va bene che c'entra è esotica è un frutto esotico la banana quindi vi aspettiamo tutta l'estate veniteci a trovare ovunque digitate digitate e va bene madre di ossa che non bisogna di noi anzi magari ci mandano un cartone un casco di banana vabbè comunque Maurizio buona giornata a tutti buon'estate ciao 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 ciao